Azienda senza sorprese il podcast dell'imprenditore illuminato Eccoci con questa nuova puntata perché dopo aver parlato di un rischio che hanno tutti che è cyber risk abbiamo un altro rischio che è presente in qualsiasi tipo di attività che si chiama responsabilità ambientale e andrà magari uno da casa e dice ma io sono un imprenditore nel settore dei servizi cosa mi interessa a me della responsabilità ambientale e invece tocca effettivamente tutti Ce ne vuoi parlare? Sì certo, allora partiamo da un concetto Oggi chi inquina paga Ok, questa è la regola Se all'interno della mia azienda c'è un inquinamento io devo riportare tutto l'ambiente alle condizioni prima che questo venisse inquinato Ok, e cos'è chi inquina? Inquiniamo tutte le sostanze diverse dall'acqua Ok Prendiamo un caso Tutti quanti adesso stanno pensando a aziende chimiche aziende di fornitura di prodotti combustibili aziende che hanno macchinari pesanti che utilizzano olio idraulico eccetera Ecco no Basta essere una semplice commerciale per inquinare Vi faccio un esempio Magari ho un piccolo sito dove mi arrivano dei prodotti Che ne so, dalla Cina, dall'est Europa eccetera eccetera E questi prodotti io li rivendo sul mercato italiano Vengono i camion a caricare Io ho le rampe di carico Le rampe di carico con una bella pavimentazione di asfalto Ogni volta che arrivo a un camion mi perdo una gocciolina d'olio o di gasolio O di liquido refrigerante Ok Benissimo, questa condizione va avanti per anni Fateci caso Guardate le rampe di carico delle aziende Ok Quante macchioline hanno per terra di olio, di gasolio, di liquido refrigerante E portatevi questo esempio con voi Questo accade per dieci anni A un certo punto esce l'autorità Campiona Il parcheggio Viene fuori il mandato Tracce di idrocarburo Il tribunale dispone che venga sbancato 400 metri quadri di piazzale Per un metro di profondità Quindi 400 metri cubi di terra Che probabilmente è contaminata solo per i primi dieci centimetri Ok, da portare dove? In discarica? Chiaramente Perché non è prodotto riciclabile È inquinato E in discarica quanto mi costa? 1000 euro al metro cubo Quindi 400 metri quadri per un metro di profondità 400 metri cubi 400.000 euro Ecco, questo è un piccolo esempio di quanto può costare una rampa di carico Dove i camion si parcheggiano per essere caricati o scaricati Ci sono anche degli esempi un po' più eclatanti Guardiamo una piccola azienda metalmeccanica Ok, che magari ha delle presse Ha delle punzonatrici E queste presse e queste punzonatrici per funzionare hanno dei pistoni E per far funzionare i pistoni serve l'olio idraulico E siccome queste presse vengono continuamente solicitate a vibrazioni Magari perdono una gocciolina d'olio Le vibrazioni magari producono delle crepe sul pavimento E si infila una gocciolina d'olio Ogni giorno per 20 anni in una fessura Peccato che sotto questa azienda c'è una falda acquifera Magari a 30 metri di profondità E' una massaia Ok, nella zona residenziale circostante alla zona industriale Apre il suo bel rubinetto Si prende un bicchiere d'acqua E trova un bel velo d'olio in superficie Esce l'autorità Prende un campione del velo d'olio E va su tutte le aziende della zona industriale A vedere chi c'ha quell'olio E lo becca chi c'ha quell'olio Perché è un'analisi chimica Ok Prende l'azienda e dice Benissimo, intanto fermi la tua attività Ok E poi devi ripristinare l'ambiente Sapete cosa significa ripristinare un inquinamento a falda acquifera? Significa buttar giù dei tubi Quindi farvi pozzi ardesiani Aspirare l'acqua dalla falda Depurarla E poi non puoi rimetterla in falda Devi buttarla in fogna Per cui arriva l'agenzia del territorio E mette su un bel contatore Sull'acqua che stai scaricando sulla fognatura Che gliela stai anche pulendo Tra virgolette E gliela paghi Perché la fognatura la paghi a metro cubo scaricato Ok Cosa significa? Questo significa che l'azienda sa Quando inizia a pagare Per questo danno Ma non sa Quando finirà di pagare Sapete Cosa farebbe un imprenditore in questo caso? Andrebbe in tribunale E consegnerebbe Le chiavi Dell'azienda Questa è la responsabilità Ambientale Andrea tu adesso ci hai parlato Di esempi Proprio di sversamento Di perdite liquidi Che vanno a inquinare Il sottosuolo C'è anche Invece L'altro tipo di inquinamento Che può rappresentare anche Chi Dirige un ufficio Ovvero Un qualsiasi tipo di incendio E vorrei Chiedere a te Quando accade un incendio Che può Capitare anche All'interno Delle mura domestiche Ogni anno Non mi ricordo Quanti incendi ci siano Mi sembra 15.000 20.000 Non mi ricordo Non vorrei dare un dato Sbagliato Cosa accade Quindi cosa scatta Chi arriva fuori Cosa monitorano E quali sono le conseguenze Per chi appunto Ha causato l'incendio Beh L'incendio può generare Tante problematiche I primi che arrivano Chi sono I vigili del fuoco E i vigili del fuoco Cosa sfruttano sul fuoco Acqua Peccato che l'acqua Spegne il fuoco Ma si porta dietro Tutta una serie di Residui Ok Residui Che inquinano l'ambiente Che vanno a finire sul terreno Per cui Uno si trova Con la sua casa Con il suo ufficio Che ha preso fuoco Ma si trova anche A dover pagare dei danni Legati proprio alla responsabilità ambientale Perché l'ARPA Magari esce Fa dei campionamenti sul terreno Trova inquinamento Ok Ma fa anche dei campionamenti Sull'aria E le polveri Dell'incendio Magari aveva un tetto di amianto Eccetera eccetera Potrebbero contaminare Anche l'ambiente circostante E magari Il malcapitato Si troverebbe a Dover ripristinare Anche le condizioni Non solo Della sua area di proprietà Ma anche Dell'ambiente Circostante In una vera e propria Responsabilità civile Ecco A proposito di questo Visto che è un tema importante Cioè noi Le generazioni precedenti Le nostre Hanno devastato il territorio L'hanno inquinato Hanno abusato E oggi Le nuove generazioni Questo non L'accettano più Quindi quando accade un fatto Poi Ti arrivano I riflettori Addosso Arrivano I media Arrivano Gli ambientalisti Arrivano Tutte quelle persone Tutti quei movimenti Che sono creati Io La domanda che voglio farti è Quanto può essere collegato Oggi Il risk management Anche dal punto di vista ambientale Alla sostenibilità ambientale Che poi è Un'opportunità E non stiamo a dire O a riportare degli esempi Tipo di greenwashing Di cose fatte Solo di facciata Ma Invece di opportunità Di fare le cose per bene Perché è importante Un inquinale Attraverso questo processo Unito anche A una crescita sostenibile Che è Che è oggi Al centro Dei ragionamenti Di tante imprese Diciamo che Risk management È A insito Il concetto Di sostenibilità Non solo ambientale Oggi sono i criteri ESG Environment Sustainability Governance Ok Che sono insiti Nel sistema Di risk management Facciamo degli esempi Un'azienda che applica Risk management Sarà di sicuro Pulita E ordinata E per cui è più difficile Che un'azienda che applica Risk management Riesca ad inquinare L'ambiente Che la circonda Ma è anche sostenibile Per chi? Per la popolazione circostante Perché questa azienda Sarà più esente da rischi E il fatto di essere Esente da rischi Porta al fatto Che i propri dipendenti I propri collaboratori Avranno uno stipendio Garantito Per il futuro Ok Infatti L'azienda Si insedia In un territorio E ne garantisce La sostenibilità Ok Quindi diventa Un'azienda Che ha uno scopo Sociale Per la famiglia Per le famiglie Che la circondano Perché Ogni famiglia Avrà un proprio Familiare Che vive All'interno Di quell'azienda Lavora All'interno Di quell'azienda Per cui dobbiamo Immaginarci Le aziende Che applicano Risk management Come aziende Sostenibili Che hanno anche Uno scopo Sociale E uno scopo Per l'ambiente Che le circonda Con il contributo Nella riduzione Della carbon footprint Quindi dell'impronta Di carbonio Che lasciano Negli anni Direi che abbiamo Parlato a sufficienza Di quello che è La responsabilità ambientale E nella prossima puntata Invece andremo A una conseguenza Del risk management Che è un'opportunità Ovvero Accade il fatto Come mi devo comportare Ma anche Quali sono Le azioni Che devo fare prima Per avere Una continuità aziendale Quindi in inglese Com'è che si chiamano? Business continuity Management system E anche per questa puntata È tutto E ricordo a tutti Gli imprenditori illuminati O ai consulenti Che vogliono Catturare l'attenzione Degli imprenditori illuminati Che possono mandarci A Info Chiocciola Azienda Senza sorprese Aziende.com Le aziende Con I deposit Del bilancio Ovviamente Quindi con partite IVA Di società Che sono OSRL E OSPA Dove Andrea Analizzerà I bilanci E vi dirà Quali sono I punti di forza Dell'azienda I punti di debolezza Se sono da acquistare Se sono da assicurare Se sono da mantenere Oppure se sono da smantellare Ci vediamo Alla prossima Ciao Andrea Ciao Grazie mille Azienda senza sorprese Il podcast Dell'imprenditore illuminato